Eccoci come state, un saluto a tutti ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella numerosissimi, mi raccomando. Aggiornamento in questo momento per quanto riguarda la panchina Milan, la situazione è questa. Resta in pole Fonseca che pare aver abbandonato la pista Marsiglia, che gli offriva un triennale anche a ottimo ingaggio. Ha ricevuto una proposta da Lille di rinnovo, la quale ha detto, vediamo, prendo un po' di tempo e dovrebbe dare una risposta entro una settimana. È in pole per il Milan, dall'altra parte attenzione perché non c'è ancora la firma e non c'è ancora una decisione definitiva. Risulta che la candidatura di Mark Van Bommel non sia assolutamente tramontata, che la decisione finale pare debba essere presa proprio tra Fonseca e Van Bommel. Sinceramente non mi entusiasma nessuno dei due, mio parere personale. Fonseca più esperto, Van Bommel più amato, perché è stato già al Milan. Siccome Fonseca sai che ti dà questa cosa qui, ma non di più, magari Van Bommel ora ti dà così, ma poi magari può darti così. In ogni caso in entrambi ci sono tanti rischi, però la cosa interessante è che Fonseca, candidatura forte di Furlani e Moncada. Dall'altra parte Van Bommel, candidatura seconda a quella di Antonio Conte e di Zlatan Ibrahimović. E quindi alla fine chi la spunta, anche dal nome del tecnico e da chi sarà stato il principale sponsor delle due anime, capiremo chi comanda davvero oggi al Milan, chi ha più voce in capitolo di altri e chi invece in questo momento deve stare un po' in seconda linea. Vediamo che cosa succede, ci siamo, sono le ore decisive, i giorni decisivi. Ditemi chi preferireste tra i due, tra Fonseca e Van Bommel. Aggiungo che De Zerbi, ripeto, come ho detto ieri sera, in questo momento non è un'idea del Milan e quindi non credo proprio che arriverà. Scatenatevi con i commenti qui sotto, lasciate un bel like e iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, mi raccomando, se non lo avete ancora fatto. Un abbraccio a tutti.